5, 4, 3, 2, 1, 0 perché il primo giorno di apertura ufficiale è sabato perché è il primo giorno di festa e quindi c'è più gente di tutti qua potete vedere Alessandro, Fabrizio e Marco la mia ciurma di giocatori di Essen, noi un di sempre e questa è la Hall 4 siamo alla Fairland come potete vedere chiudiamo con l'immagine di Crystal Palace è il tavolo che ci stanno setappando per giocare